Profumo di autunne di alta classifica per il Tau Topascio. Dopo la bruciante sconfitta di Gavorrano, tanta voglia di ripartire. Al comunale plana una San Giovannese finora poco brillante come testimone alla classifica. Venturi, Fassaggio, Turnover, ne cambia quattro. Dianosi, Antoni, Noccioli e Bellutini le novità. Tau in Amaranto, ospiti in Maglia Azzurra. Fase di studio nei primi minuti, la gara che stenta a decollare. Al 19 il Tau Calcio però la sblocca con il 18. Il solito Capparella imperversa sulla fascia rimette in mezzo dove Bruzzo si fa trovare pronto di testa all'invitante appuntamento. Prima rete stagionale per il forte centrocampista al Topascese. Impalpabile la reazione degli ospiti. Unico sussulto si fa per dire un tiro di Zar che non spaventa di Biagio. Il pallone è sciallato. Non una gran partita, ma Tau in vantaggio a riposo. Che diventa raddoppio in avvio di ripresa. Bella azione sulla destra. Odianosi la rimette in mezzo. L'imprendibile Capparella anticipa tutti e ci mette il piattone sinistro facendo 2-0. Quinta rete stagionale per il fortissimo numero 10 al Topascese. Stavolta gli ospiti reagiscono in modo adeguato e all'undecimo accorciano le distanze. La manovra si sviluppa sulla destra con Massai e Zar. Pallone al centro dove Regolanti è il più lesto e batte così di Biagio riaprendo il match. Poco dopo la mezz'ora però Antoni decide che è il momento di ristabilire le giuste distanze. Il numero 19 recupera palla e fa partire un siluro incrociato che si spegne sotto la traversa e poi in rete. Stupendo gol del 3-1 da antologia e da spellarsi le mani. La partita è tutta lì. Il Tau vince con pieno merito e vola al terzo posto che non è poco. Domenica prossima trasferta al Goffredo del Buffa contro il Filline che suscita recenti ricordi dei play-off di eccellenza della stagione 21-22.